Mi chiamo Laila e vengo ai Mondiali Antirazzisti da 8 anni. Quest'anno mi occupo insieme ad altre persone dell'Infopoint. Stare all'Infopoint vuol dire accogliere le persone, dargli le informazioni che richiedono, che la maggior parte delle volte sono dove giochiamo, a che ora giochiamo, cosa dobbiamo fare, mi puoi ricaricare il cellulare o vanno da questo a dove è l'infermeria, dove posso comprare dell'alcol. Una volta è venuto una signora che ci ha detto che si era persa un uomo polacco, per esempio. Quindi diciamo che te ne possono capitare di tutti i colori, specialmente verso sera le richieste cominciano a diventare abbastanza simpatiche, che forse dalla musica e la brezza alcolica cominciano a far diventare le richieste più simpatiche. Vendiamo anche le fantastiche magliette dei Mondiali Antirazzisti, è tutto così come tutto il merchandising. Ed è molto carino come postazione perché vedi tutti quanti arrivare, ti fai un'idea di quanta gente c'è, di quante squadre ci sono, sei al centro della festa, senti la musica un po' lontana, però più o meno la senti. Siamo aperti alle 9 e alle 24.